vedo un cazzo al di fuori dal gioco mi si è proprio spento incredibile il funzionamento di questo monitor mi lascia sempre più colpito uff perchè odi così tanto sto gioco non è incredibile sono d'accordo ma nel senso ci sono giochi peggiori portavo tanta di quella merda che tu nemmeno te lo immagini cioè porterò con i giochi che tu stai qui a rimpiangere the diamond quindi cercate il cibo in scatola nei mobili bar portate ah ok quindi perchè sto seguendo queste no io ho questa da fare portiamo il cibo in scatola ah ecco perchè mi serviva no ah ok no a tutto senso devo trovare le quattro cose d'alcol per lui in modo tale che lui mi faccia entrare e mi darà la possibilità di poi portergli le cose di portergli il cibo eh ah è il tasto ah l'è tutto andato eh pa 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 qui vedo un punto esclamativo mi ha suonato telegram vai a fa ancora no vai a fa ancora manifesti politici via tutto in realtà una fuga mani però va bene comunque ma ok qui vedo un po' tu stai scalando il niente tu mi osservi lì che cosa accade va bene andiamo via andiamo via subito non voglio più saperne niente non voglio più saperne niente sto correndo un sacco me ne pentirò barb quante altre vuoi amico sei bruttissimo io da dove cazzo te le tiro fuori ho altre bottiglie d'alcol però non ho la più pallida idea andiamo qua via via guarda il bigore di Mbappé lo smetto lì c'è altra gente che sta mangiando il gioente posso coprirli con i palloni? no però posso dargli delle fortissime manzate nella schiena hotel non è il momento dell'hotel bungalow bungalow non so come si conosce sento i rumori poco rassicuranti hello c'è nessuno volevo dell'alcol bevanda energetico tubo pesante non fa mai schifo ha 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 no ha ha non si vede un cazzo non si vede un cazzo ok ok no non c'è altro bufanda energetica no no non c'è altro bufanda energetica si si amico io non ho spera a meno che quelle indicazioni non mi dicano dov'altro posso racimolare dell'alcol va bene bastava seguire l'indicazione mi hanno dato un messaggio ok no via ci metto un anno sennò più mai no no niente non capisco mai che cosa cazzo debba fare per aprirlo in modo normale soldi non fa da me schifo se ti sei venuta la bottiglia è pazzesco ok no allora questo non posso indossarlo aspetta ho abilità o punti abilità nel senso ho il livello 6 comunque schifo schifo non faccio eh manutenzione ottimale si come fai inventario puoi vedere allora io questo lo volevo equipaggia qui poi equipaggia qui tubo pesante qui e direi che siamo a posto ma ho rotto io non capisco mai la scritta rotto perché non capisco se si è rotto laima se si è rotto lui se mi sono rotto il cazzo io non lo so ciao non voglio non voglio precipare questo non voglio precipare tutto via via respiro un attimo un attimo un po' vai a fanculo ma mappo c'è un da qualche parte un posto in cui io posso prendere dell'alcol ma mi bastano tre bottiglie ancora ok eccolo qua dentro uno zombie fermato da un avanicio questa scena non so che dite questa non so che dite stai ove fanculo si aiutare ti aiuto con carità come cazzo hai fatto a piantarti in questo casino mi chiedo fate che non lo peso mai ok va benissimo manche la porta sul retro oppure no se non me la volevi aprire ha fatto la finta ma stavo parlando che palle uno non pallare in santa pace ti impausa con lo scorrimento no aspetta cosa ho fatto aiuto ok non so che cosa gli abbia fatto ottimo alcol acqua va bene bevanda energetica è ottima alta bevanda energetica è ottima alcol perfetto apri carta di identità carta di identità molotov ok c'è un'amiche secondaria immagino da affrontare ma noi torniamo momentaneamente dal nostro amichetto che immagino non vorrà tutte e poche le tutte e poche le bottiglie che le abbiamo procurato bene così andiamo via no vedete da island non da in light viene assegnata una qui dove oppure qua il punto di raccolta e amico eh ho capito quindi come fotogrammi pesi 173 wow qua che connessione sta impazzando quindi hello io ne mancavo una immagina andiamo giro giriamo un attimo a caso pessimo piano proprio pessimo piano di raccoglio me la sono acabata per mi apro di vino vai me e il momento di equipaggio è la moto risolto il problema via risolto il problema via che cazzo ci facciamo qua qui ho capito aiuto per entrare guardate la scatolette di cibo quante ne ho due ma ne ho due ma che cazzo come faccio ad averne solo due perdonatemi io ho una dove minchia me la tiro fuori l'altra doveva essere una missione semplice vai a prendere le scatole del cibo non sto prendendo un cazzo aspetta ma il col di nuovo guardate il cibo 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 Non gli ho mai detto di bella Mai Ma chi cazzo siete? Via Che palle cazzo Mi sto veramente frantumando i coglioni Siamo solamente all'inizio del bioco Sì 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 Ancora Cazzo non è possibile Qua ci si fomenta un sacco di gianta Qui c'è un autobie che sta girando un po' No Sono confuso Ma le signorina sta meglio lì Come punto di salvataggio ma che ho fatto? Allora Dormi un attimo che devo capire Soprattutto ho nervi di alcol Ho due cibo in scatola Che due palle Quando è che? Indovina dove sarà l'altro cibo in scatola Ah Qui è vuoto Straccia Non ci credo Non ci credo Non ci credo Tutti a fare in culo dovete andare Tutti La prima o l'ultimo Non ci credo Non ci credo Allora Non ci credo Allora Pia di qua Mai non voglio più mettere più piede in questa minimissima di merda Ottimo Ottimo Vai a fare un culo Oh il cibo persino a muoio, a posto, basta Guardate in pratica Cazzo In che senso, trovi il bottino, parla con sinamore, va bene parliamo con sinamore Va bene Le due stazioni servizio Ok Spedro dobbiamo andare Va bene, aspetta, non credo ci siano i viaggi abili, quindi è quel cazzo che li posso sfruttare Vai scendiamo C'è una macchina Aspetta Sì, dimmi da Ok Ok La resurrezione di l'altro, si chiama in modo incredibile Ok Mi sono incassato, aiuto, aiuto Ok Va bene Uno su quattro Poi Qua ne vedo altre Qua ne vedo altre Prendiamo il pezzo Prendiamo il pezzo Prendiamo il pezzo Ma ti ho cercato una stangata, dovresti morire Non so che cosa mi stava spostando Ottimo Via Ok Torniamo indietro Ci prendiamo con l'auto Sperché Non gli serve altro Nel caso si incula sangue Prendiamo Il pezzo Si Ma Non è No Non è No in una